Fra i massimi drammaturghi italiani di ogni tempo, rappresentato nei teatri di tutto il mondo, Eduardo De Filippo fu autore di straordinaria inventiva, capace di saldare in modo originale il linguaggio della tradizione e le inquietudini del Novecento. Un convegno organizzato dall'Università Federico II in collaborazione col Comune di Napoli inaugura le iniziative che quest'anno celebreranno Eduardo a 30 anni dalla scomparsa. Apriamo, credo, nel modo più impegnativo e fecondo, chiamando a riflettere su Eduardo, i più grandi studiosi di Eduardo di tutta Italia, grazie a Federico II e alla cattedra di letteratura del professor Sabatini, riscoprendo innanzitutto il valore anticipatorio e profetico, direi, del teatro di Eduardo, ma soprattutto la sua contemporaneità e la sua universalità. Il convegno ha esplorato importanti aspetti della produzione eduardiana, soffermandosi sui temi dominanti nelle sue opere, sui rapporti col teatro napoletano dell'Ottocento, sulle scelte linguistiche e infine sui rapporti con Luigi Pirandello, verso cui Eduardo nutriva un'ammirazione enorme e col quale nel 1935 scrisse a quattro mani la commedia L'Abito Nuovo. Edoardo rappresenta il teatro del Novecento, ma rappresenta il teatro del Novecento come un classico, nel senso che è divenuto per noi un punto di riferimento, capace di parlare anche oggi ai giovani. In realtà Edoardo aveva una capacità di leggere la realtà, di portarla in scena, ma leggeva la realtà con un occhio profetico, per cui dal presente riusciva a guardare il futuro e questo ce lo rende contemporaneo. Un interessante studio di Stefania Stefanelli, ricercatrice della normale superiore di Pisa, ha mostrato l'evoluzione della lingua tra le diverse edizioni di Natale in Casa Copiello, che esordisce con un napoletano marcato nella prima versione del 1930 e perviene progressivamente ad un italiano regionale venato da tratti dialettali, man mano che l'opera si sposta dai palcoscenici teatrali alla radio e poi alla televisione. La componente linguistica dell'opera di Edoardo è stata analizzata nell'edizione dei Meridiani e in altri interventi. L'aspetto centrale è che non dobbiamo aspettarci in Edoardo di Filippo una lingua integralmente italiana o integralmente dialettale, ma dobbiamo accettare il fatto che Edoardo rappresenta una realtà variegata anche dal punto di vista linguistico, una realtà in cui i dialetto italiani si sommano, si affiancano, si intrecciano e danno luogo possiamo dire a una tastiera molto varia in cui intervengono elementi musicali diversi. Questo è uno solo dei convegni già programmati dal tavolo del progetto speciale Forum Edoardo e a momenti si sarà anche l'insediamento del Comitato Nazionale deciso dal Ministro Franceschini sul nostro proposto. Grazie a tutti.